Ragazzi questo è il primo video, inizio oggi il mio canale, non ho creato questo canale per uno scopo ben preciso non parlerò solo di make up che si è tra i miei interessi ma non sono un'esperta come può esserlo Clio o la Gnappetta o la Sindina purtroppo non sono così brava quindi farò ogni tanto qualche video tutorial sul make up ma sarà solo uno dei temi trattati piuttosto tratterò temi svariati che possono essere musica, libri, non lo so, tatuaggi, profumi, cosa ho mangiato per cena eccetera non sono esperta nel fare video, non li ho mai fatti, questo è il primo, si vede dalla qualità dell'immagine e probabilmente anche dal background chiedo scusa per la sistemazione ma in questo momento sto traslocando quindi la casa ce l'ho praticamente vuota è orribile, ci sono i muri spogli, sono seduta per terra perché non ho più nemmeno il tavolo non ho una webcam ancora, sto usando la mia fotocamera digitale quindi scusate anche per la qualità che è veramente scarsa e niente spero vi piacerà, spero di farvi divertire, di intrattenervi e ci sentiamo alla prossima, ciao!